Siamo qui a Darfogo, a Rio Terme, ai campionati italiani di Schirola, siamo con Michael Helweger. Michael, quei giorni un po' attravagliati, sempre in viaggio tra la Svezia e Livio, e oggi qui a Darfogo. Sì, un po' impegnativo questo periodo, arriviamo a un periodo in Svezia dove abbiamo caricato tanto di allenamento, dopo ci siamo spostati a Livio per fare la gara a Livio e un giorno dopo siamo adesso a Boario per scoprire un nuovo mondo dello Schirola, bello grazie all'invito del Paolo Carrare e la sua Next Pro, veramente bello, ho visto anch'io, cambia un po' dallo sì di fondo, però veramente un bel evento e mi sono divertito tanto. Domani c'è la gara a cui parteciperai? Sì, domani un altro giorno proviamo a fare una bella must start tutti insieme e vedremo come va. Quali sono le tue aspettative per domani? Far fatica, l'importante è allenarsi, dopo se arriviamo in volata meglio, se no teniamo e proviamo tutto, dai. E dopo la giornata di domani dove andrai? Dopo domenica, domani torno di nuovo a Livio e da giovedì siamo a Fornia Volta per i campionati italiani. Perfetto, in bocca al lupo allora. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti.